Oggi vedremo come aggiornare la GoPro Hero 12 Black tramite l'applicazione GoPro Quick. Per prima cosa assicuriamoci che all'interno della GoPro ci sia la microSD e anche una batteria carica. A questo punto non ci rimane che accendere la GoPro dal tastino laterale. Una volta accesa dobbiamo entrare nel menu a tendina e selezionare le preferenze. Quindi andiamo su connessioni wireless ed accendiamole. In questo modo potremo collegare la nostra GoPro allo smartphone. Se però ancora non avete effettuato la prima configurazione vi consiglio di dare un'occhiata a questo video. Adesso quindi possiamo aprire GoPro Quick sullo smartphone e selezionare la nostra GoPro. Quindi aspettiamo qualche istante per la connessione. E in questo caso ci viene direttamente notificato l'aggiornamento. Che comunque se selezioniamo il menu dai tre puntini ci dice effettivamente nuovo firmware disponibile. A questo punto clicchiamo su installa aggiornamento. Quindi clicchiamo su continua. Da qui vediamo il changelog quindi le note di rilascio dell'aggiornamento. In questo caso io sto installando la versione 1.12. Quindi clicco su aggiorna GoPro e attendiamo la connessione. Quindi clicchiamo su accetta e continua e adesso attendiamo il trasferimento dell'aggiornamento. Come possiamo vedere appunto il led sta lampeggiando. In questo momento è fondamentale non utilizzare sia lo smartphone che la GoPro. E chiaramente non dobbiamo nemmeno spegnerli. Quindi attendiamo il completamento della procedura. Adesso vediamo sulla GoPro questa notifica che ci dice aggiornamento. E adesso ci viene detto aggiornamento completato. E la GoPro si è riavviata da sola. Adesso per verificare che effettivamente l'aggiornamento si sia installato andiamo nelle preferenze e poi selezioniamo informazioni info fotocamera numero versione 1.12. Quindi l'aggiornamento è stato installato correttamente. Come avete visto questa procedura è stata semplicissima. E vi consiglio anche di dare un'occhiata a questo video. In ogni caso ragazzi se il video di oggi vi è piaciuto potreste iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. E vi consiglio anche di dare un'occhiata a questo video. Alla prossima. Alla prossima.